SIGLA Psicosi AstraZeneca in 200 rifiutano la dose, succede a Pesaro dove lo Pfizer basta solo per i richiami, polemiche per le vaccinazioni a Monticelli, code all'esterno del Palasport. 16 morti e record di 1000 positivi nelle Marche, 441 in provincia d'Orica, file di ambulanze al pronto soccorso del Torrette, malati di Covid in attesa anche 14 ore. Ad Ancona, ottantenne, muore per una fuga di gas, drammatica la testimonianza dei parenti, indagini su un tubo staccato nella caldaia. L'Ascoli in dieci si salva con Baic, Venezia è ripreso ma ora la salvezza diretta è un miraggio, Samb, Serena nonostante il caso stipendi, parola di Montero, fermano a C.O. ad Arezzo. Primo giorno di richiamo per i vaccini agli over 80 a Pesaro, tutto viene fatto con Pfizer, ma ieri oltre 200, oltre 80 anni hanno rifiutato la somministrazione che veniva portata avanti con AstraZeneca, ma ci fa il punto su questa giornata il nostro Thomas Delbianco. Primo giorno di richiamo per gli over 80 al centro sociale della celletta di Pesaro, agli anziani viene somministrato il vaccino Pfizer così come era venuto per la prima vaccinazione, ieri invece agli over 80 che si sono presentati per la prima vaccinazione è stato proposto il vaccino AstraZeneca, si è creata una certa apprensione dopo la notizia del lotto di AstraZeneca sospeso da Haifa e ritirato da Azur Marche e circa 200 anziani hanno rifiutato la somministrazione, il responsabile della protezione civile Ugo Schiaratura lo conferma. Sì esatto, c'è stato un po' un attimo di panico quasi quando è stato comunicato che purtroppo il Pfizer non c'era e c'era AstraZeneca, molti hanno rinunciato e sono andati via, c'è stato un po' lì, sì qualche problemino c'è stato, però insomma tutto sommato anche quello è stato superato, però io penso che un paio di cento persone sono sicuramente andate via. Buona parte del lotto sospeso da Haifa era stato somministrato alle forze dell'ordine nel territorio pesarese e la Prefettura ha fatto sapere che non ci sono state reazioni avverse. Ora sentiamo alcuni, over 80 appena concluso, il richiamo del vaccino. Bene, bene, non ho sentito niente e spero che duri così. No, va bene, mi hanno fatto poi con la dose, con lo Pfizer che era già quello precedente, quindi poi oggi è tutto bello in ordine perché fanno solo i richiami e quindi è una cosa molto importante, veloce, proprio veramente una buona organizzazione. Si è fatto il richiamo, adesso vediamo le conseguenze del richiamo. Sono molto gentili, devo dire. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha comunicato che il nuovo punto di vaccinazione a Pesaro sarà all'ex Ristò, all'interno del Rossini Center, alla Torraccia e questo punto della Celletta, il centro sociale, verrà chiuso. Conosco la zona e penso che possa veramente andare bene. Qui è un po' sacrificato anche la parte esterna perché adesso siamo stati fortunati che abbiamo solo avuto un giorno di pioggia, ma veramente ci crea dei problemi. Lassù possiamo mettere al coperto anche la gente in attesa, perciò va benissimo, non vediamo l'ora di partire e di andare lassù. Primo giorno di vaccinazioni nella nuova location a Scolana, si è passati dalla Casa della Gioventù al Palasport di Monticelli. Per noi c'era Luigi Miozzi, abbiamo raccolto le sue voci in questo servizio, all'interno del quale parla anche la consigliera regionale Anna Casini, proprio sulla situazione della somministrazione dei vaccini AstraZeneca agli over 80. Ascoltiamo. Purtroppo siamo senza la fornitura di vaccini Pfizer e Moderna, che sono quelli più indicati agli anziani che hanno pluripatologie. Lo aveva anticipato a Vera TV la dottoressa Rosa Cardi. Pfizer e Moderna non ci sono più. Anche agli over 80 senza patologie da ieri deve essere somministrato l'AstraZeneca. E così qualcuno se ne va, altri restano e la polemica esplode mano a mano anche sui social, perché nessuno pare avesse avvisato gli anziani di questa scorta terminata. Non mi piace fare la castandra, però se le cose non si organizzano poi succede il caos, come è successo per esempio anche questa mattina qui ad Ascoli Piceno. Se non si avvisano i sanitari che le dosi di Pfizer e di Moderna sono finite, che si deve somministrare soltanto a AstraZeneca anche agli anziani e poi ieri sera anche agli anziani con patologie e non si avvisano i medici di base, è chiaro che succede un caos. Io non entro nel merito della validità dei vaccini perché non è una mia competenza, entro nel merito invece delle procedure, entro nel merito del fatto che stamattina gli anziani non sapevano quello che dovevano fare, i figli come pure ieri erano disorientati. E i disagi si sono registrati in avvio di mattinata anche per code all'esterno del Palazzetto dello Sport di Monticelli ad Ascoli, da oggi sede vaccinale. Fino a ieri infatti bisognava recarsi nella casa della gioventù. In coda, personale scolastico e forze dell'ordine, ma soprattutto anziani, alcuni alle prese con la seconda dose Pfizer ed altri con la prima AstraZeneca. Mia madre per la seconda dose. Com'è andata? Per quanto riguarda la vaccinazione, bene, per quanto riguarda l'esterno direi una cosa drammatica, una cosa veramente indecente. Mancanza assoluta di qualcuno che coordina la gente che arriva, assembramento di fronte a un centro vaccinazione, mi sembra una cosa piuttosto assurda. prendiamo atto di quello che c'è. Come l'ha accompagnato mia madre? Sì, ho accompagnato mia madre a fare il richiamo del vaccino Pfizer. Avevamo appuntamento dalle 9 alle 10, siamo venuti un pochino prima. C'era un po' di confusione nel distribuire le file. Poi alla fine hanno aggiustato tutto, dividendo la fila per la prima dose e per la seconda dose. c'è tutto normalizzato. Il principio è stato un po' non ben organizzato, però adesso scorre benissimo. l'esterno ci sono antiano e mentre ricantavo andando, ci vuole. Situazione sempre più preoccupante nelle Marche, con 16 decessi nelle ultime 24 ore e ben 1000 nuovi contagiati. Nelle Marche che lunedì virano totalmente a rosso, continua a salire la curva del contagio che tocca un nuovo record. Si viaggia ad un ritmo di 1000 positivi al giorno. 441 quelli registrati in provincia di Ancona, 226 in provincia di Macerata, 153 in quella di Pesaro Urbino, 78 in provincia di Ascoli Piceno, 59 in provincia di Fermo e 43 fuori regione. Questo è il risultato rispetto ai 6.648 tamponi testati, 3.781 nel percorso delle nuove diagnosi e 2.867 in quello dei guariti, con un rapporto positivi testati pari al 26,4% in crescita rispetto a ieri. Non accena a diminuire neppure il numero di vittime del Covid che nelle ultime 24 ore sono state ben 16, 5 in più rispetto al giorno precedente, 9 quelle registrate in provincia di Ancona, 3 nel Maceratese, 3 in provincia di Pesaro Urbino, una nel Fermano e nessuna nel Piceno. Il più giovane aveva solo 53 anni e risiedeva a Fabriano. Come gli altri, presentava patologie pregresse. Il totale dei decessi nelle Marche sale così a quota 2411 dall'inizio della pandemia. Anche la pressione sugli ospedali continua ad aumentare in maniera preoccupante. Nei reparti Covid marchigiani risultano attualmente 813 ricoverati, più 29 rispetto a ieri. Di questi, 7 in terapia intensiva, 5 in quella semi-intensiva e 17 in altri reparti Covid. Sono ben 23 i pazienti in pronto soccorso, invece, al Torrette, dove negli ultimi giorni si sono registrate lunghe file di ambulanze. Dimesse nel frattempo 46 persone. Il presidente regionale Ampas denuncia le interminabili attese delle ambulanze al pronto soccorso della Torrette di Ancona. Malati Covid lasciati in coda anche per 14 ore. Lo ha intervistato per noi Ciro Montanari. L'augurio è che quello che è accaduto questa settimana nel pronto soccorso, con file attese interminabili per le ambulanze, sia un unico, ma certe scene sono veramente difficili da dimenticare. Nelle ultime ore, addirittura pazienti fermi tutta la notte fuori dal pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette, assistiti solo dai volontari. E quanto accaduto ai tre mezzi della Croce Bianca di Numana, Croce Rossa di Loreto e Croce Verde di Castelfidardo, fermi dalle ore 21 per l'intera notte, con gli equipaggi dei volontari riusciti a perfezionare i ricoveri dopo bene 14 ore. Il presidente regionale Ampas denuncia e parla di situazione inaccettabile. Quando si fanno attendere i pazienti all'interno di un'ambulanza per tutta la notte, naturalmente la situazione si può dire chiaramente inaccettabile. Se poi ci mettiamo che non è una sola ambulanza, ma tre, è naturale che questa cosa ha dell'inverosimile. L'accusa di sbaffo è per la totale responsabilità della gestione dei malati, in condizioni precarie con i motori dei mezzi accesi per il riscaldamento e le bombole di ossigilo in esaurimento. Fino a quando il paziente non entra all'interno della struttura, il paziente rimane in carico al volontario che è all'interno dell'ambulanza. Dunque tutto quello che è l'assistenza è dovuta al volontario, che durante la notte deve tenere il mezzo acceso per garantire il riscaldamento del mezzo. Naturalmente 14 ore di impiego di bombole porta alla fine delle 14 ore quasi al completo esaurimento delle stesse. Secondo il presidente regionale Ampas si tratta di un problema di organizzazione perché a suo dire le avvisaglie per evitare una cosa del genere e correre ripari per tempo c'erano. Se c'è solamente nell'ospedale regionale un motivo ci sarà. Dalle altre parti c'è la classica attesa dei 40-50 minuti, un'ora negli altri pronti soccorsi, ma in questo caso si esagera. Una notte intera non è assolutamente concepibile. Tragedia ad Ancona dove un ottantenne è morto per una fuga di monossido di carbonio. A quanto pare dalla caldaia la vittima è Giorgio Paladini, pensionato mentre sono in gravi condizioni la moglie e il figlio. Facciamo il punto nel servizio della nostra Rossella Luciani. Un anziano trovato morto sul letto, la moglie priva di sensi sul divano e il figlio nella sua camera che faticava a respirare. Questa è la tragica scena che si sono trovati di fronte ad Ancona, prima i parenti e poi i soccorritori della Croce Gialla, 118 e Vigili del Fuoco. Ho trovato mio nipote che non aveva polso, bava la bocca e quindi ho fatto subito la rianimazione, massaggio cardiaco per mezz'ora circa. Finché poi sono arrivati con l'ambulanza l'ossigeno l'hanno portato via. Penso che siamo riusciti a rianimarlo. L'allarme è scattato dopo cena in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Cupra Montana 12, posta ora sotto sequestro. A causare la morte dell'uomo, Giorgio Paladini, 80 anni, sarebbe stata, secondo le prime informazioni, l'esalazione di monossido di carbonio da una caldaia. La moglie della vittima, Lucia, 73 anni, e il figlio Andrea, di 51 anni, sono stati trasportati prima in ospedale in codice rosso avanzato e poi nella notte trasferiti in camera iperbarica a Ravenna. Ma seppur gravi le loro condizioni, non sarebbero ora critiche. In casa con loro c'era anche un cane, stordito dalle isolazioni e sopravvissuto dopo aver preso aria in balcone. Dunque il bilancio poteva essere ben più pesante se un amico del figlio non si fosse preoccupato delle mancate risposte al telefono di Andrea, come ci racconta la sorella della vittima. L'ho detto, è accaduto che non rispondevano più, un amico di mio nipote mi ha chiamato, dice non mi risponde, non mi risponde. Io ci avevo parlato la mattina, era tutto a posto, mi hanno risposto. E invece, allora io avevo le chiavi e siamo entrati perché ottenevo le chiavi anche quelle di loro. Ho trovato mia nora, scusate, mia cognata sul divano distesa così, che ansimava così. E io sono andata in camera, ho trovato mio nipote per terra, privo di sensi, in camera c'era mio fratello. Io non sapevo se dormisse o se era morto, non ho avuto il coraggio di andare a vedere cos'era. Ora le forze dell'ordine dovranno accertare le cause dell'incidente domestico. Secondo alcune testimonianze, erano intervenuti dei tecnici della caldaia proprio ieri a controllare l'impianto, come spiega anche il nipote della vittima, nonché avvocato della famiglia, pronto a presentare un esposto in procura. Sì, per verificare, per fare in modo che la cosa comunque sia, ci sia un'indagine un po' più approfondita, perché se è vero che c'è un tubo staccato, come a noi sembra, adesso io non sono un tecnico, però quantomeno che si indaghi per vedere se c'è stata una negligenza di qualcuno oppure se è stata pura casualità. Due arresti per il pestaggio di un giovane padre di famiglia macerata davanti a un bar di Corso Cavour. Dopo due mesi di indagini la polizia ha individuato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza due albanesi. Di fronte a un bar del centralissimo Corso Cavour, la sera del 16 gennaio, un giovane papà, 36 anni di macerata, era stato colpito improvvisamente a calce e pugni al volto. Ora, per quell'aggressione brutale, in due sono finiti in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Si tratta di due albanesi di 22 e 34 anni regolari in Italia, arrestati dalla squadra mobile di macerata al termine di indagini coordinate dal procuratore Giovanni Giorgio e dal PM Rita Barbieri. Si indaga ancora sul movente dell'aggressione apparentemente avvenuta per futili motivi e sul ruolo di un terzo soggetto non ancora individuato che, come si vede anche da alcuni filmati, non partecipò materialmente ma avrebbe rafforzato e stigato gli altri con la propria presenza. Un episodio che il procuratore Giorgio e il dirigente della mobile maceratese, il commissario capo Matteo Luconi, hanno definito efferato e di violenza cieca, tanto da indurre il GIP, che ha emesso la misura di custodia cautelare, ad accogliere la tesi del tentato omicidio. La parte offesa del pestaggio, padre di una bimba che in quel momento era in compagnia di un amico, era stato poi ricoverato agli ospedali riuniti di Ancona e non ricorda praticamente nulla di quanto avvenuto quella sera. Gli elementi per individuare gli aggressori hanno spiegato gli inquirenti, sono arrivati invece da altri testimoni, dai filmati di videosorveglianza della zona e da accertamenti tecnici, tra cui una consulenza medico legale. I due arrestati sono stati prelevati oggi dalle loro case e trasferiti nel carcere di Ancona a Montacuto. Soddisfazione per l'esito dell'operazione è stata espressa da parte del nuovo questore, Vincenzo Trombadore. Aveva creato una serra per la coltivazione di marijuana nel garage e un'altra più piccola in casa. Per una donna di 40 anni di Coglie al Metauro sono scattate le manette da parte dei carabinieri. I carabinieri di Coglie al Metauro hanno arrestato per coltivazione e detenzione di marijuana una donna incensurata di 40 anni. Erano diversi giorni che i militari avevano notato strani movimenti all'interno del garage della donna. Venerdì sera hanno deciso di intervenire per controllare il motivo di quello strano andi rivieni. Una volta aperta la porta basculante del garage, i militari hanno subito avvertito un forte odore di marijuana provenire dal fondo del locale. La donna aveva ricavato un'ulteriore stanza all'interno del garage, isolandola dal resto del locale, mediante una parete composta da pannelli in legno. Aperta la porta ai carabinieri si è presentata una piccola serra perfettamente funzionante. All'interno i militari hanno rinvenuto nove piante di canapa indiana, la cui crescita risultava favorita da lampade a led e altri impianti. La prequisizione è stata poi estesa all'abitazione della donna. Nella cucina è stato rinvenuto un vagetto in vetro con all'interno circa 8 grammi di marijuana già essiccata e pronta per il consumo. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Questa mattina si è svolta l'udienza di convalida e il giudizio per direttissima. La donna è stata condannata a sei mesi di reclusione e 1200 euro di multa. E ora torniamo a parlare di covid perché questo è stato l'ultimo giorno di lavoro per parrucchieri ed estetisti che da lunedì dovranno chiudere battenti con l'arrivo della zona rossa. Vediamo come è andata nel servizio di Rostella Luciani. È un vero e proprio assalto quello che nelle ultime ore stanno vivendo parrucchieri, barbieri e centri estetici che dalla prossima settimana dovranno di nuovo chiudere le proprie attività nelle regioni dichiarate rosse, proprio come le Marche. In realtà questa situazione si sta vivendo solo nel Piceno, l'unica provincia attualmente arancione. Telefoni bollenti per prendere appuntamenti ma anche per chiedere informazioni e capire quando durerà davvero lo stop, visto che si avvicina anche la Pasqua. Per noi inizia a essere un grosso problema perché per la seconda volta purtroppo dobbiamo chiudere e speriamo che siano solo due settimane perché l'altra volta poi sono passati dei mesi e speriamo che questa volta sia l'ultima diciamo. Le vostre clienti come hanno presa questa cosa? Le nostre clienti ci hanno assalito sia con le chiamate, c'è dispiacere, ovviamente c'è dispiacere perché il lavoro era tornato, cioè l'avevamo ripreso bene diciamo, la gente è stufa. Anche gli esercenti sono amareggiati perché ci si ritrova appunto a capo, nonostante le spese sostenute per mettersi a norma con i protocolli anti-Covid. Dopo 365 giorni ci troviamo al punto di partenza. Tutte le promesse fatte, tutte diciamo quelle situazioni di speranza si sono vanificate dopo un anno esatto dal primo lockdown. Avendo dei ristori praticamente all'elemosina perché con 600 euro non può andare avanti un negozio e io parlo del mio negozio che comunque è piccolino tra affitti e altre cose quindi ci hanno imposto giustamente mascherine, appuntamenti, sanificazioni anche se quando è l'ultimo non è servito a nulla. Io personalmente ritengo che la mia categoria ha un protocollo che funziona. Insomma c'è tanta delusione visto anche il poco preavviso e tanta incertezza sul futuro. Ancora con questa chiusura e tanti tanti pensieri che girano su cosa ne sarà del nostro futuro non possiamo fare nessun tipo di programma, di progetto. Io con piacere rimarrei aperta anche domenica se ci fossero prenotazioni solo che molte clienti dagli altri comuni comunque non possono venire e quindi anche i clienti sono pochi, non si lavora come prima, è cambiato tutto e anche il lavoro è diminuito dalla zona arancione che è stata. Ora in zona rossa ci faranno chiudere totalmente e quindi perderemo anche quel poco che avevamo per poter andare avanti. Contraccolpi minori si sono registrati a fermo dove di fatto si era già in zona rossa a partire da mercoledì e dunque si continuerà con le stesse restrizioni con qualche piccola modifica. Il nuovo DPCM del governo Draghi che entrerà in vigore lunedì 15 e sarà valido fino alla 6 aprile prevede 12 regioni in zona rossa quindi tutte le marche diventano rosse e anche la provincia del Piceno che fino ad ora era esclusa. Questo potrebbe creare qualche confusione nei cittadini, lo abbiamo chiesto a fermo ma qui sembra tutto chiaro. Con il nuovo DPCM di ieri si creano delle confusioni rispetto alla zona rossa che è entrata già da mercoledì? No perché se è stato deciso di tenerlo in rosso è giusto, deve stare in rosso. Anzi io avrei messo in rosso tutta l'Italia. I media ne hanno dato ampia diffusione a questa cosa quindi penso che quasi tutti saranno a conoscenza di questa cosa a prescindere se sono d'accordo o meno sul provvedimento c'è ampia diffusione anche sui mass media, sui social. Le regole quindi sono già ben chiare? Abbastanza, dopo un giorno non se deve fare un po' in modo suo, se deve aggiustare un po' in modo suo però penso che siano abbastanza chiare. C'è confusione su questa zona rossa rispetto a quello che ha detto il governo ieri? No non c'è confusione, c'è pochissima gente e usciamo soltanto per cose che ci servono urgenti altrimenti non usciamo, almeno in questa zona siamo abbastanza severi su questa cosa. Al mattino prima c'era tanta gente, si vedeva ora non c'è più nessuno, nessuno esce. Se ci hanno detto che non si deve uscire cerchiamo di uscire proprio per l'indispensabile che sono andate in farmacia. Com'è questa zona rossa? È una zona che vuole tranquilla, tranquilla sempre perché è disabitato il centro storico, adesso poi non c'è confusione. Noi andiamo giù alla bancarella delle verdure, a Vede c'è pochissima gente. La nuova disposizione del DPCM crea confusione con la zona rossa che già c'è da mercoledì qui? Secondo me no, nel senso che comunque sicuramente è stata una disposizione che non ci aspettavamo, quella di questa settimana, da mercoledì. Però mi rendo conto che indubbiamente la situazione è critica in tutte le marche, nel senso che anche noi adesso stiamo facendo una passeggiata ma perché abitiamo proprio nel centro storico quindi fino a qui al Duomo ci possiamo spingere. Il calcio, la Serie B, andiamo a sentire Mr. Sottil dopo l'1-1 contro il Venezia. Ascoltiamolo. Di fronte, lo sapevamo, un'ottima squadra che gioca un buon calcio, un ottimo calcio, lo sapevamo. Poi per una grande reazione dei ragazzi, una volta sotto, addirittura per l'ennesima volta in inferiorità, una grande reazione da vera squadra, da squadra che ci crede veramente e che ha voluto a tutti i costi recuperare la partita anche sviluppando un buon calcio e quindi sicuramente è un punto guadagnato per come si era messa la partita. In Serie C la Fermana sconfitta nell'anticipo di Arezzo dopo 5 risultati utili, espulsi Boateng e Bonetto, il servizio di Michele Natalini. Semmaforo rosso ad Arezzo per la Fermana che inchioda dopo 5 risultati utili consecutivi. Nell'anticipo decide un rigore guadagnato dall'ex Ascoli e Leonardo Perez e realizzato da Di Paolo Antonio. Per Cornacchini, che proprio a Recchioni contro i Toscani aveva debuttato sulla panchina giallo-blu tre mesi fa, viagge ancora indigesti. Mai la sua Fermana ha vinto in trasferta. Ad Arezzo l'infortunato con Nigni viene rimpiazzato da Cremona, classe 1985, e titolare in Lega Pro dopo oltre due anni. Gara attirata in avvio e squadre imprecise. Non succede nulla fino al 38esimo, quando Sbraga, sugli sviluppi di un calcio di punizione, fallisce un rigore in movimento. Nella ripresa, Cornacchini prova a usare un po' di più. Dentro Boateng, fuori Mordini. Si fa vedere Cremona, ma il suo tiro termina a lato. Dopo, ecco il contatto tra Scrosta e Perez. Rigore, l'undicesimo fischiato contro alla Fermana in campionato. Arezzo non è Carpi e Ginestra, pur intuendo la direzione del tiro, si fa bucare da Di Paolo Antonio. È il gol partita. Boateng, intanto in meno di un minuto e mezzo, rimedia due ammunizioni e lascia i suoi in dieci. Nel finale, Manetta ci prova di testa sull'uscita rivedibile di Sala. Nel recupero, infine, l'espulsione di Bonetto. Per Cornacchini, la terza sconfitta della sua gestione, sempre fuori, dopo Mantua e Padova, ecco Arezzo. Martedì, Fermana-Triestina allo stadio Recchioni. L'unico tiro in porta, secondo me noi avevamo fatto una gara attenta, una gara dove avevamo rischiato sinceramente molto poco. Poi è chiaro che prendi un gol sul rigore, rimani poi 9. È chiaro che la partita è condizionata e quindi è andata così. Devi ripartire senza fare drammi assolutamente. Sempre in Serie C, mister Montero alla vigilia della gara della Samba. Pesaro giura. La squadra non ha risentito della questione stipendi. Assenti Padovan, Trillodi, Pasquale e Lombardo, recuperato d'Angelo. Due notizie che danno la misura delle difficoltà societarie. Partenza direttamente domani alle 14. Tamponi fatti solo ai 23 convocati. Penso che questa è stata una settimana tranquilla. Sul fatto estracalcistico i giocatori hanno fatto un comunicato come lavoratori. Ossia non vedo niente di grave su questo comunicato perché non è stato un comunicato personale. Non si è parlato a livello personale. Si è parlato a livello lavorativo. E noi come staff, togliendo al prof, come staff, noi come abbiamo vissuto certi momenti, come esperienza abbiamo appoggiato alla squadra. Non vedo niente di grave, perché è giusto anche come succedeva l'anno scorso con un altro presidente che lui sentiva che non rendeva la squadra, che non le piaceva, che non, e si rendeva a lo spogliatoio e diceva lo che pensava. Ossia, non capisco qual è lo grave di questa situazione quando non si va a toccare lo personale, lo umano. Ossia, no, no, no. Succede in tutti i lavori del mondo. Io non ho parlato dopo la partita con l'Arezzo e niente, questa è la domanda che si fa tutta la città. Sinceramente le ho vissi molto bene. Venti non hanno risentito che si sono ambientali. No, no. No, perché non... È anche vero che ci aiuta la mezza, si dice la mezza, la media d'età che sono tutti giocatori adulti e già hanno giocato tanti sudamericani che hanno avuto tante situazioni diverse e hanno esperienze. Allora loro ce la sanno convivere. E anche per questa edizione è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Vera TV. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.